Mi raccomando se non vuoi perderti nessun video su questo canale ti consiglio di premere la campanella in alto a destra per ricevere ogni giorno i feed dei video che usciranno sul canale. Buona visione! E' qualcosa di fattibile. E' qualcosa di fattibile. E' qualcosa di fattibile. E' qualcosa di fattibile. Perché ci sarà sicuramente qualcuno di eliminare il canale oppure fare bungee jumping tenendo le palle di quei peccani in testa. E' qualcosa di fattibile. Sai che è la prima volta che faccio un video del genere dove mi devo mettere da posto anche la faccia di solito. Eeeh, queste sono cose avanzate. Pronto? Beh, è bella. 3, 2, 1. Salutiti ragazzi e benvenuti dopo tantissimo tempo in una nuova collaborazione con Tumore97. Joe presentati che sei qua sotto di me e fai un saluto alla facecam ti prego. Salve, salve, salve Joe. Se sono di sopra, sono di sopra. Tu guarda di sopra, io guardo di sotto. Ciao Scemo. Salve ragazzi, sono Sprepuzio24, conosciuto come Tumore97. E oggi sono qui per sfidare il vostro creepy e lo massacrerò. Lo uccido. Faccio un fumo così. Non è la prima volta che facciamo questa roba qua. Io e Joe siamo conosciuti ormai sulla community per le challenge e per le penitenze. Quindi ragazzi, oggi andremo a fare... Non quelle tumorali. Tipo caffè e sale per dirne una. Che tre malattie ho preso con quella roba te lo giuro. E nulla ragazzi. Oggi andremo a fare una battaglia su Sporkle per vedere chi è il miglior riconoscitore di mosse e chi perderà. Dovrà affrontare una penitenza che deciderete voi nei commenti. Esattamente caro Joe. Quindi nulla ragazzi. Se volete altri... Quanti like gli facciamo mettere Joe? Cioè dimmelo ti prego. Eh... Dovete mettere 150 like. 150 like. Attenzione impazzisce questo uomo. 150 like. 150 like per una nuova challenge con nuove penitenze e nuovi... Scelti da voi. Scelti da voi. Diciamo come potremmo dire nuovi... nuovi rapinaggi di canali. Perché sul canale di Joe è successo qualcosa di incredibile su cui farò un video. Ma detto ciao ragazzi. Qualcosa di oscena. Qualcosa di oscena. Qualcosa di oscena. Uno spettacolo. Uscirà un video a riguardo sinceramente... Sinceramente non vuol dire niente. Provo così. No. Fai niente. Sto andando insieme. Iniziamo col video ragazzi. Vai. Siamo con la prossima video. Nonostante ciò con le tue R Moshe. Fai aprire ad ogni donale. Vai. La registrazione è attiva. Ok. Che vinca il migliore. 3. 2. 1. Vai. Allora ragazzi. Mac punch. Double kick. Ice punch. Flame punch. Thunder punch. Ah beh la sfida l'avete capita. Punch punch punch. Fire. Uh uh figo figo figo. Fire. Ice. Thunder. Thunder punch. Ok perfetto. Allora. Poi altri punch. Che altri punch abbiamo raga. Ehm. Quick punch. No. Mac punch. Qui è nati cosa di nervi. Dizzy dance dovrebbe esistere. No esiste. Dizzy punch. Ehm. Cazzo. Non lo so. Ehm. Dance. Ehm. Dance. Dance kick. Blaze kick. Blaze kick. Blaze. Flareseed. Perché non va Flareseed. Ehm. Dragon rage. Rage. Ira. Iron rage. Do. Doble. Ok. Attack. Tree attack. Ehm. Rain attack. Rain. Ah no. Rain dance esiste. Uh giusto. Sunny dance. Ah no. Non esiste sunny dance. Vaffanculo. Che cazzo dico. Acqua tail. Come si scrive. Non in italiano. Ehm. In inglese. Cristo dio. Acqua tail. Quelli che stanno già commentando. Non sai scrivere. Double slip. Focus blast. Charge. Ce ne saranno altri. Charge beam. Ehm. Fire charge. Ci dovrebbe essere. No. No. Forse. Flame charge. Flame charge. Ok. Bomb. Heavy bomb. Ehm. Possibile che esista. No. Heavy esiste a qualche altra parte. Mi piace sta cosa raga. Non sono capace a giocare a questi giochi. Chop. Come si chiama in crocolpo? Eh. Non ricordo. Ehm. Weep. Weep. No no. Weep. No no. Weep. Weep si scrive così. Sono una capra. Shockwave. Shockwave. Come si scrive shock? Dov'è? Non lo sai scrivere. Mi vengono di mettere tutte le mosse a caso del competitive raga ve lo giuro. Storm. Ehm. Minchia. Storm. Che cazzo c'è Storm? Ah. Sandstorm. 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 Che altre tempeste ci sono nei giochi Pokemon raga. Ehm. Ehm. Oddio quanto è difficile. Ice beam. Che raggi ci sono. Iperraggio. Geloraggio. Lanciafiamme. Ehm. Ehm. Non lo so raga è troppo difficile. Blast. Bodyguard. Ok. No no no. No no no. Ehm. C'era bodyguard oh. Bodyguard. Bastardi tutti. Infami. Flare. Il governo. Ehm. Flare. Flare. Ehm. Team Flare. No. Non sono loro. Attenzione. Ehm. Sono curiosi di come stanno andando creepy. Ah. Mad Bomb. Uh. Che genio. Wind. Aspettate. Allora. Ehm. Omni. 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 Omnius. Wind. Come si dice? Non so come si dice. Dio bono. Ehm. Altri wind raga. Wind. Telecom. Cosa? Ball. Ehm. Non ricordo. Paura. Non posso perdere. Raga. Thunderwave. Hashtag. Hashtag. Team Joe. Non Team Creepy. Se mitraglia. Come cazzo. Seed Bomb. Una roba del genere. Ah ok. Però era su Bomb. Giustamente. Seed Flare. Davvero esiste Seed Flare raga. Questa cosa qua non la sapevo. Storm. C'è Sand Storm. C'è. Ehm. Non esiste Snow Storm. Non esiste Snow Storm. Ehm. Forse uno Storm normale esisterà. Ah è Storm. Minchia Storm. Che mossa è raga. Non l'ho mai sentita sta roba qua. Ve lo giuro. E che mosse di room ci sono. Room raga. Swap room. Forse. Possibile. No. Ehm. Slash. Slash. Guns and roses. Tutti quanti. Non lo so. Io Cristo. Sono in panico. Calma. Blast. Fuoco. Bombe. Dio bombe. Non lo so più. Quiverdance. Ehm. Throw. Storm. Order. Attack order. Che so. Order. Ma esiste davvero delle mosse che finiscono con order? No raga. C'è veramente. 78 su 214. Una vergogna. Send attack. 3 attack. Ehm. Attack on Titan. Non lo so. Non lo so. Mi vergogno di me stesso. Ehm. Io mi sarò finito. Non lo so. Ehm. Io mi sarò finito. Non lo so. Shadow claw. Ah. Shadow claw. Ce l'ho già. Shadow bone. Mmm. Mad bone. Seed bone. Egg bone. Mamma mia che forte. Che sono. Questa non ce l'ha creepy. Questa non ce l'ha. Sono sicurissimo. Strampa danza. Strange dance. Strange dance. Non lo so. Come ti chiami tu. Non lo so. Come si chiama quella mosse tipo. Che. Che. Mosse tipo elettro. Che. Si riceve dopo aver battuto l'ottava palestra. L'ottava palestra. Nella regione di sino. Che aumenta attacco speciale. Cross chop. Porca troia. Io mi faccio schifo da solo. Joe. Joe mi ha aperto. Joe mi ha aperto. Lui avrà fatto. Ma raga. Minimo il doppio dei miei punti. Minchia che penitenza che mi becco a sto giro. Ehm. Come si chiama quelle pacche. Sveglio pacca. No. Sopra mai. Wake. No. Walk. No. Sleep powder. Mamma mia che forte. Uno l'ho completato. L'ho già due completati. Manca. Ehm. Ehm. Fit. Non lo so. Sto mettendo parti del corpo a caso raga. Veramente. Creepy aveva detto fuori parte. Camshot. Però quella è un'altra cosa. Che mostri. Ci sono scuriate. Se guardo in giro. Però sto cercando di concentrarmi. Non lo so. Ma arrendo. Mi arrendo. Non mi viene a mente niente. Cross chop. Ehm. Quick chop. Non lo so. Rega. Non mi viene a mente niente. Uh. Fari me l'ha preso. Mi sa che era Fari Seed. In furia seme. Sono riuscito a tradurlo a caso raga. Room. Ah Trick. Trick Room. Trick Room. Cazzo ce l'ho fatta. Si. Ehm. Non serve a niente. Però ce l'ho fatta. Trick Room. Whip. Ci sarà qualcos'altro. Non mi viene a mente. Pledge. Non so cosa voglio dire. Evito. Seed Flare. Ehm. Rage. Rage Quit. Quello che sto per fare adesso raga. Ehm. Unica. Water. Ehm. Grass Knot. Forse esiste. Ok. Sto mettendo cose a caso. Tipo tutti i tipi. Ehm. Psychic. Psychic. Esisterà qualcosa. Ehm. Shadow. Ehm. Ho perso. Comet. 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 Dai inglesi maledetti. Ballet punch. Poteva arrivare. No. Sono andato insieme. Bubble beam. Sapevo che c'era. Eh. Si. Ho straperso. Quanto hai fatto? Io. Te quanto hai fatto? 85. Nooo. Ho vinto. Nooo. Che process. Quanto hai fatto tu? Si. 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 Cazzo. Si. Sto male. Io ho fatto un intero video a dire che stavo perdendo. Quindi ragazzi. Anche in questo caso. La forza. La lealtà. E la non cancragine. Hanno portato la vittoria di un solo concorrente. Ma che cazzo. Joe Muto. Muto. Guarda di sopra. Chi è che sta sopra? Chi è che sta sotto? Ragazzi. Chi è che avrei. Avrei barato. Uomo di merda. Avrei. Non ho barato. Non ho barato. Qua lo giuro. Signori. Penitenza. Pesante. Pesante. Vogliamo una penitenza cattiva per quest'uomo. Che uomo di merda che sei. Quindi. Ragazzi. Io spero di prendere la rivincita con questo. Se volete altre challenge di questo genere. Se volete vedere Joe perdere. Mi raccomando. Lasciate un mi piace. Raggiungiamo i 150 like per un altro video di questo genere. Joe fa schifo. Quindi. Iscrivetevi. Hashtag. 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 15k. Energia. Raga. Se non seguite. Se non seguite Joe vi perdete certe cose. Quindi mi raccomando. Andate nel link in descrizione a seguirlo. Perché. Nelle live ci sono di quelle perle allucinanti. E nulla. Lasciate un like. E la penitenza la troverete nel mio canale. La penitenza ovviamente sul suo canale. Quindi il link in descrizione. Per andare a vedere. Come morirà Joe. Nulla. Premete la campanella. Passate dai social. E dal canale di Joe. Joe. Vuoi fare un commento. Un outro finale. Un commento. Qualcosa. Un commento. Non sei meritato. Tranquillo. Hai laggato. E quindi noi ci becchiamo. In un prossimo video. Ciao. Ciao. Ciao.